Dal Consiglio Comunale di Arco arriva un appello unanime indirizzato alla provincia affinché qualcosa si sblocchi all'ex Sanaclero e si possa finalmente intervenire sullo storico immobile che ora giace in condizioni fatiscenti. L'altra sera in Consiglio Comunale è stato votato all'unanimità un ordine del giorno che afferma tutte le forze politiche presenti all'interno del Consiglio Comunale di Arco chiedono con fermezza e grande convinzione che la provincia, in merito a tale compendio e alla recente proposta dell'imprenditoria del Comune di Arco e dall'illustre luminare stimato a livello internazionale il dottor Luigi Fontana, si impegni a favorire in tutti i modi la sua concretizzazione in tempi rapidi. Si vuole evitare il degrado definitivo del compendio, fuga del capitale umano all'estero, un danno sociale, economico, culturale, ambientale per la comunità del Garda Trentino e dell'intera provincia di Trento. L'ipotesi del sindaco Betta a proposito di Villa Angerer, ex Sanaclero, che coinvolge l'esperto di alimentazione Luigi Fontana e l'imprenditore Leuterio Arcese, è quella di trasformarla in una struttura ricettiva di alto livello, votata al benessere psicofisico della persona. E sembra che il progetto stia procedendo per il verso giusto. Se è vera la notizia che a Trento sono stati visti recarsi dal presidente Rossi il sindaco Betta, l'imprenditore Leuterio Arcese e il professor Fontana.